Dalla paura post-Fondi, per una situazione di classifica che si era complicata parecchio, ai sette punti collezionati nel recente trittico di impegni in otto giorni. Vittorie Casalinghe contro Catanzaro e Siculo a Leonzio, intervallate dall'ottimo pareggio di Lecce. Ora la salvezza diretta nel campionato di Serie C è un po' più vicina per la Fidelisandria, ma Andrea Tiritiello predica calma e chiede massima concentrazione per le ultime sei partite della stagione regolare. Questo non ci deve distogliere dal nostro obiettivo, noi vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e concentrarsi settimana per settimana. Professione difensore, vizio tutt'altro che da eliminare, saper incidere in fase di finalizzazione. Lo ha fatto due volte in quattro giorni Tiritiello, prima al Via del Mare contro il Lecce, realizzando il gol che ha dato il Via alla rimonta biancazzurra nel derby con la capolista, poi nella sfida casalinga di domenica scorsa con la Sicula Leonzio mettendo a segno la rete decisiva per la vittoria. Ieri ha spento la sua ventitresima candelina, ma i regali più belli per il suo compleanno si eliera già fatti in anticipo. Questo dipende molto dai miei compagni che mi mettono la palla. Ho sempre avuto questa qualità sui calci piazzati e cerco sempre di sfruttarla al meglio. Grazie ai miei compagni in queste due partite sono riuscito a tirarla fuori. Tre i gol realizzati in questa stagione da Tiritiello, che in precedenza aveva fatto centro anche nel successo interno contro il Rende. Quando lui va a segno, in pratica, la Fidelis ottiene sempre un risultato positivo. Il difensore biancazzurro, inoltre, ha già eguagliato il primato di reti realizzate in una sola stagione. Ne collezionò tre anche nelle esperienze con Tutto Cuoio e Poggi Bonsi. L'Andria, per questo finale di stagione in pratica, può contare su un tir in più. Come viene simpaticamente soprannominato Andrea. Questo è un soprannome che mi porto da qualche anno. Forse per il mio modo di giocare, forse, non so, probabilmente il mio modo di giocare piace ai tifosi. Mi fa piacere, ma comunque non conta poco. Sono felice perché vuol dire che comunque stiamo trasmettendo qualcosa ai nostri tifosi e spero continui così fino alla fine del campionato. In arrivo c'è il derby con Biceglie. C'è la trasferta al Ventura in programma sabato alle 16.30. Tappa non decisiva, ma fondamentale per le ambizioni salvezza diretta dei biancazzurri. Sarà una partita molto tosta, con ritmi molto alti credo. Verrà decisa da un episodio, sarà molto tirata. Ci aspetta una bella settimana di lavoro per prepararla al meglio.